arrotola come un serpente pitone e poi fa arzughe o no arzughe che arzughe macchina che abbiamo trovato oggi c'è un brusco così piccolo così tu che hai detto ce l'ha messo nonna nonna ha detto io per niente quello che mi ha trovato sulla macchina spieghilo tu questo è tutto rincoglionito mi ha trovato un ciambrusco uno ma che mette l'acqua testa da cazzo e che c'è la mette niente la sta fermo che io poi mi metto quel che c'è la mette ma un goccino no non la voglio un goccino io ci ho messo un goccio di vino ma l'ha riempitata il galletto vall'espluga cresce e come guarda al cui pure e alle forze dove aspetta aspetta il domatore di gatti non è buona per mangiare ma che la zucca la zuccare che del cazzo no la teniamo per il prossimo anno no sì o se no ci fanno il presepino oh oh no ma la piatta non te il culo tolvi il sconcontente sempre così oh le donne in macchina parte 3 che mi fa imbestialire e quando lasciano quei cazzetti di quelle sigarette de merda lì 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 porco cane lì come cazzo fai manco c'entra la mano non è che fanno le prendono poi le buttano no le lasciano lì sti cazzetti de merda lì ma io veramente cioè veramente lì 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 lì